Ciao amici, Massimiliano per The Geekers, è un po' che non ci si rivede, l'occasione Realme 9 Pro è la prova delle sue fotocamere che sono di belle e comode con quella anteriore da 16 megapixel che mi inquadra. Comparto conosciuto, 64 megapixel, la principale, 8 megapixel ultra grandangolare e 2 megapixel la solita macro. È un comparto già visto su altri prodotti Realme, ma non per questo ha funzionato male. Anzi, vi invito poi a vedervi la prova qua dietro sul sito, video, foto e a darvi il vostro parere. Sempre su The Geekers, sempre con il pollice su e sempre a seguirci. Eccoci qua amici, Realme 9 Pro, video, 1080p, ultra steady max, quindi sistema di stabilizzazione elettronica inserita e lente grandangolare. Per vedere come funziona, io mi muovo e cammino, giusto per capire se proviamo anche a correre un pochino magari e vedremo come l'ultra steady max che funziona sulla lente ultra grandangolare in questo momento riesce a stabilizzare le immagini riprese in full HD 1080p. Approfitto della panchina, ci salgo e faccio anche un saltino così, vediamo. E questa invece è la ripresa classica full HD plus 1080p senza stabilizzazione inserita, giusto per vedere come funziona. Anche l'obiettivo che andiamo a ingrandire attraverso i rami, ripetitore antenne, eccolo laggiù, un po' contro sole, quindi non proprio facile da inquadrare. Torniamo alla ripresa normale. Uno per Realme 9 Pro 1080p full HD, ripresa con fotocamera principale da 64 megapixel. Uno per Realme 9 Pro 1080p, ripresa con fotocamera principale da 64 megapixel, ripresa con fotocamera, ripresa con fotocamera, ripresa con fotocamera, ripresa con fotocamera, ripresa con fotocamera. Uno per Realme 9 Pro 1080p, ripresa con fotocamera, ripresa con fotocamera, ripresa con fotocamera, ripresa con fotocamera.